Il coprifuoco c'era ma loro non se ne sono certo fatti un problema. Anzi, il deserto del lockdown deve aver favorito l'operato dei tre ladri che nella notte tra sabato e domenica hanno colpito dei locali tra il quartiere a retino di Saione e il centro della città. Così con un vero e proprio ride notturno hanno messo a segno dei furti con scasso sfondando le vetrine dei ristoranti portando via ciò che potevano. Una razzia terminata con l'intervento della squadra mobile che ha provveduto all'arresto del trio formato da cittadini magrebini. Per i commercianti vittime dei colpi piove sul bagnato dovranno far fronte alle spese di riparazione in un momento in cui le casse languono. In questo momento qui c'è poca poca roba insomma voglio dire anche in cassa lasciamo sicuramente un piccolo fondo cassa insomma non ci sono mai soldi. In altri locali ho sentito parlare che hanno portato via vino hanno portato via prodotti quasi sono preoccupati solamente del registratore di cassa di alcuni palmari. In un caso hanno usato un tombino per farsi strada in un altro non riuscendo a sfondare l'ingresso hanno scavalcato per entrare dal piano di sopra. Malviventi determinati dunque ma poco organizzati e soprattutto disperati vista la scarsa refurtiva. La speranza dei commercianti è che la polizia abbia sgominato la banda dei locali che già da settimane si stava accanendo contro le vetrine di bar e ristoranti ed infissi a caccia di qualsiasi cosa.